Buongiorno a tutti, sono contento di aprire questa seconda giornata del convegno della voce artistica e la apro con una tematica molto importante che è l'etica e la responsabilità nell'azione formativa e didattica. Permettetemi prima di relazionare di ringraziare il dottor Fussi che mi ha invitato qua e ci tenevo tantissimo anche a ringraziare Marina Tripoli della bellissima presentazione. Iniziando vorrei subito dire che l'etica e la responsabilità nell'azione formativa è una tematica molto importante. Tutti noi dovremmo in qualche modo nei corsi che facciamo di canto, di musica e di voce parlare sempre di etica e parlare sempre dell'importanza dell'azione formativa soprattutto negli allievi e nei ragazzi giovani che si affidano a noi per poter imparare a cantare, a parlare meglio in pubblico, a relazionare. Per cui inizierei subito dicendo che insegnare è un concetto che spesso viene considerato male, ovvero l'insegnante è convinto di dover a tutti i costi relazionare tutto quello che sa l'allievo e quindi riempirlo spesso di tantissime informazioni, come se l'allievo fosse un secchio da riempire. In realtà l'insegnante per quanto debba trasmettere tutto il suo sapere all'allievo dovrebbe cercare di far sì che tutto quello che dice sia chiaro e soprattutto che l'allievo possa anche sviluppare una certa curiosità nei confronti di quello che gli viene insegnato affinché un giorno, quando magari torna a casa da una lezione, possa approfondire, andare a ricercare e sperimentare. Non bisogna a tutti i costi riempire l'allievo di informazioni eccessive perché si rischia di far confusione e si rischia poi che l'allievo a sua volta la faccia quando magari diventando insegnante trasmette questo sapere ad altri. L'etica quindi è quella disciplina che studia tutti i comportamenti umani e ci permette di distinguerli in buoni, giusti e leciti rispetto a quelli che sono ritenuti illeciti, cattivi o ingiusti secondo la morale. Fondamentalmente talvolta questi comportamenti ritenuti cattivi e ingiusti sono appunto anche, come abbiamo detto, illeciti, illegali. Altre volte invece stanno all'interno di alcuni parametri di legalità però comunque a livello morale non sono corretti quindi ci possono essere delle scorrettezze. In ambito di devianza da quelli che sono i parametri giusti, buoni e leciti nel corso della storia dell'antropologia e della psicologia noi abbiamo potuto conoscere persone come Durkheim, Merton, Lombroso che hanno un po' parlato proprio di come le persone talvolta vadano al di fuori di quella che è la giustizia e la correttezza. Ma lo vedremo tra poco. Innanzitutto ci terrei a dire che nel ramo della musica e del canto esistono tre tipologie di docenti. Come potete vedere sono tre macro-categorie. La prima categoria riguarda appunto le persone laureate o diplomate in possesso quindi di una laurea in università, di un diploma di conservatorio che hanno dei titoli di studio giuridicamente validi per legge. Poi troviamo gli insegnanti di canto che sono certificati in un metodo e a loro volta possono magari avere anche un diploma o una laurea. E infine troviamo i cantanti con carriera che talvolta insieme alla loro carriera nazionale o internazionale svolgono anche le azioni di insegnanti. Allora, la domanda che spesso mi viene fatta da parte dei ragazzi soprattutto giovani è a quale di queste categorie di insegnanti io devo affidarmi per cantare benissimo o per imparare bene? Io dico sempre, non c'è a tutti i costi una categoria migliore di un'altra. Tuttavia il consiglio che posso dare soprattutto a chi è molto giovane e a chi quindi vuole avvicinarsi di più alla musica, al canto da un punto di vista professionale è quello di studiare, di possedere un titolo di studio giuridicamente riconosciuto per tanti motivi, principalmente perché si può avere accesso a dei concorsi di Stato, si può ricoprire incarichi anche nell'amministrazione pubblica, ruoli dirigenziali e quindi come si usa dire una volta che la carta c'è anche se uno poi dovesse voler fare altro, avere altri interessi può tranquillamente inserire la laurea o il diploma nel cassetto e comunque l'ha ottenuto. Ovviamente questo non vuol dire che un insegnante certificato in un metodo o un cantante con grande carriera non debba o non possa essere un ottimo insegnante però avere un titolo di studio soprattutto se si è molto giovani permette di avere diciamo una sicurezza, una garanzia in più. Con che docente quindi studiare canto? Io ho questa massima, ogni docente è valido se permette all'allievo di migliorare vocalmente senza intaccare negativamente la salute vocale. Quindi un qualsiasi docente che io vado a lezione magari e mi fa migliorare vocalmente e quindi non peggioro, non mi ammalo vocalmente secondo me può essere un bravissimo docente. Ovviamente lo devo valutare nel tempo, non deve essere una cosa che so dopo due o tre lezioni ci vuole un certo percorso per capire anche se empaticamente con quel docente io posso trovarmi. E quindi arriviamo a parlare di quali sono le caratteristiche fondamentali affinché una persona possa essere ritenuta un buon docente. Ne ho messe solo alcune, sarebbero molti di più. Principalmente bisogna capire i bisogni dell'allievo. Cosa vuol dire? Vuol dire che un docente deve riuscire a capire chi è di fronte. Non tutti gli allievi ovviamente sono uguali e anche a livello caratteriale per cui io non potrò relazionarmi a un allievo timido e insicuro con lo stesso carattere con cui mi relaziono un allievo estremamente convinto. Dovrò essere sincero sulle possibilità future di tale allievo. Ovvero se un allievo viene da me e ha delle problematiche vocali o non ha il senso del ritmo e sogna in poche lezioni di diventare Stevie Wonder io dovrò dirgli che non è fattibile, magari serve un percorso più lungo e può non avere una certa capacità, una certa vocalità. Non devo per puro scopo di lucro illuderlo dicendo che diventerà un grande cantante e fargli fare duemila lezioni per avere un guadagno economico ma poi l'allievo non ha beneficio. Devo ovviamente usare un metodo che appunto tenga anche conto delle sue esigenze e soprattutto devo tutelare la sua salute vocale consigliando periodici controlli dal foniatra. Questo è un punto sul quale io mi batto molto perché al giorno d'oggi noi, quasi tutti noi se non tutti, usiamo i social e anche chi non ha un profilo social ha un amico, un collega che ogni tanto magari fa uno screen, gira dei contenuti, dei messaggi. Quando io leggo che ci sono a volte delle persone anche in ambito vocale che dicono che non importa andare dal foniatra perché cantando bene tecnicamente una persona non si ammalerà mai o quando si sente dire il foniatra ti ha trovato questa patologia cosa ci vai a fare dal logopedista prendi questo rimedio, prendi un cortisone, prendi questa cosa stai a casa, riposati che guarisce da sola sono cose che purtroppo fanno ridere insomma nel senso che tutti i professionisti di qualsiasi campo dallo sport a qualsiasi altro campo hanno persone che li tutelano e a cui si affidano per fare prevenzione perché la prevenzione è sempre più importante che non la diagnosi precoce o tardiva di una patologia e quindi un controllo dal foniatra almeno una volta all'anno per chi canta professionalmente usa la voce professionalmente è dovuto a tal proposito voglio anche aggiungere due cose voglio anche dire che il docente di canto dovrebbe sempre collaborare in team con un foniatra con un logopedista avere dei riferimenti quindi se noi sentiamo che l'allievo ha qualcosa che non va vocalmente ovviamente noi insegnanti non possiamo sapere che patologia ha e non è il nostro compito indagarla però dobbiamo essere in grado di riconoscere se un allievo è disfonico se c'è qualcosa anche solo a livello acustico che non ci torna nella sua produzione vocale e rinviarlo a un controllo prima di lavorare non si può lavorare su un allievo che è disfonico magari non è patologico però va indagata quella causa e non possiamo fare 20-30 lezioni e poi scoprire che magari c'erano i noduli o c'erano i poli e l'allievo poi si trova con una voce rovinata o comunque deve stare fermo per lungo periodo di tempo dal canto arriverai a parlare di docenti e docenti ho messo il VS in diapositiva proprio perché ho voluto distinguere dalle tipologie dai docenti appunto che rispettano l'etica a docenti che invece non la rispettano i docenti che rispettano l'etica non parlano male dei colleghi e dei metodi di canto insultando e offendendo è una cosa che sui social ma anche nella vita vera capita tantissimo spesso si assiste a colleghi che parlano male di metodi che a volte non conoscono non hanno fatto parlano male di persone che non ci sono più parlano male di fondatori di tantissimi di tutte quelle cose di cui non si occupano loro in primis questa è una cosa che non si fa eticamente un docente dovrebbe svolgere il proprio lavoro se ritiene che un metodo non sia funzionale o valido può esporre una critica costruttiva senza bisogno di insultare o di andare sul personale è anche importante non usare materiale di altri colleghi senza chiedere il premesso o senza citare la fonte e anche questo accade spesso magari vediamo online una diapositiva un contenuto di un collega e talvolta c'è chi lo prende lo proietta nelle sue lezioni senza tener conto che a quel collega da cui l'ha preso fare quella slide quel materiale quella ricerca è costato sacrificio e impegno per cui chiediamo prima il permesso e quantomeno citiamo a chi appartiene inoltre per chi lavora in accademia o scuola è importante essere onesti su pagamenti e rimborsi evitando disguidi e figure imbarazzanti capita anche che vi siano talvolta delle scuole che organizzano eventi di canto le persone coinvolte magari a volte possono non essere presenti non venire non partecipare gli artisti e succede che c'è gente che non si vede rimborsata ha pagato magari per dare masterclass e poi il rimborso non arriva mai o arriva dopo 100-200 giorni ed è un rimborso parziale e a questo punto anche qui bisogna carire un punto se io pago per un evento e quell'evento non si tiene presso un'accademia io devo avere il rimborso per il semplice fatto che non ho potuto vedere il VIP il cantante per il quale mi ero iscritto e ovviamente non sta alla persona se non c'è un accordo preventivo firmato stabilire quanto deve trattenersi in percentuale le modifiche unilaterali negli accordi e nei rimborsi non possono essere solo ad opera ovviamente di chi gestisce un evento perché altrimenti chi non ha potuto partecipare ovviamente oltre a non aver visto l'artista non riesce neanche ad avere indietro la propria quota spesa quindi è importante anche questo vorrei arrivare a parlare di titolo di studio riconosciuto giuridicamente o no sempre nell'ambito dei docenti innanzitutto diciamo che come potete vedere ho postato uno screen che appartiene al sito del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ho messo anche il link ma anche andando su google e digitando potete trovare facilmente la pagina internet allora perché bisogna parlare di titolo di studio riconosciuto giuridicamente o no proprio perché spesso si assiste sempre sui social delle scuole o delle accademie private che fanno dei percorsi bellissimi che però si legge spesso il percorso è paritario di una laurea di un conservatorio e talvolta i genitori o comunque i figli magari anche minorenni dicono vabbè al conservatorio ho l'esame d'ingresso in quest'accademia invece non ce l'ho il titolo vale uguale c'è scritto per cui mi scrivo qual è il problema il problema è che poi questo titolo che ripeto senza dubbio il percorso è entusiasmante bellissimo però alla fine quel titolo non ha valore legale e giuridico per cui una persona è convinta magari poi di poter entrare in una graduatoria di poter insegnare e non lo può fare allora sarebbe bene avere chiarezza se un percorso vale non c'è bisogno di dire che è paritario se non è così e quindi se non risulta iscritto nell'elenco proprio del MIUR degli istituti superiori di formazione dell'università e della ricerca è importante anche dire che ci sono anche percorsi esteri però e percorsi esteri una persona dice vabbè ma se questo percorso viene organizzato con una scuola che sta all'estero io sto in Italia come faccio a sapere se poi il titolo è valido esattamente come per tutte le scuole italiane c'è l'elenco da parte del Ministero della Pubblica Istruzione troviamo la stessa cosa sul sito del Cimea il Cimea è un portale che si occupa proprio per tutti quei titoli di studio esteri che sono riconosciuti unicamente se la scuola ovviamente vi è iscritta quindi se io voglio fare un corso in una scuola che non è iscritta al Cimea ed è all'estero devo chiedermi poi se quel titolo avrà una valenza e che valenza potrà avere non basta che la scuola sia iscritta al Cimea è molto importante che ovviamente vi sia anche il percorso di laurea che io vado a conseguire se faccio un esempio banale se nel Cimea si trovasse il Royal College di Londra per dire e quindi io dico vabbè la scuola c'è qualsiasi percorso vale in realtà devo controllare anche che percorsi valgono all'interno di quella scuola e che sono riconosciuti dal Cimea non posso spacciare una masterclass di due giorni per un diploma ottenuto sempre in quel college ovviamente quindi è molto importante non lo posso fare perché come vedete in slide altrimenti vado a violare alcuni articoli del codice penale quindi quegli articoli che parlano di attestazione di falso di millantato credito di truffa se ovviamente metto nel mio curriculum un percorso che ho svolto e che non rappresenta l'effettivo di quello che sono andato a fare vorrei parlare anche un attimo di master perché perché i master ovviamente sono un'occasione preziosa oppure possono essere un'illusione parlo di master perché molte persone mi dicono io ho fatto il conservatorio ho fatto l'università in Italia vorrei fare un master in ambito di musica e canto ce ne sono un po' non so quale scegliere ci sono tre regole che valgono per capire che percorso scegliere la prima regola è l'atenio erogante il master oltre ovviamente a essere un'università accreditata è meglio se magari è tra i più virtuosi perché vuol dire che il percorso ha una certa stabilità e serietà il personale docente deve essere formato questo cosa vuol dire vuol dire che se io vado in un master che parla di canto di voce e mi trovo magari una cattedra di scienze mediche affidata a un batterista un chitarrista un musicista che però non ha un percorso in ambito medico di professioni sanitarie dovrò interrogarmi per esempio se vale la pena fare questo percorso che cosa posso apprendere e soprattutto all'interno di quel master i CFU cioè i crediti che vengono erogati devono essere suddivisi in base alle modalità previste per legge se io vado a fare un master in canto da 60 crediti non esiste che quel master all'interno di questi 60 crediti ne abbia solo 10 in canto e 50 in psicologia può essere interessante però alla fine io di canto avrò perfezionato e imparato poco per cui questo è importante guardarlo far passare tutta la documentazione non solo affidarci ma è quella che può essere la copertina la presentazione ho voluto citare il corso di alta formazione in vocologia artistica perché oggi qui sono presenti molte persone che quest'anno si sono iscritte che saranno futuri vocologi e l'ho voluto fare perché molte persone mi hanno chiesto tu hai fatto vocologia ma al di là dello scopo culturale poi che cosa come hai speso questo titolo cosa ti è servito allora io preciso che vocologia artistica è un percorso ovviamente riconosciuto dal ministero perché è tenuto dall'università di Bologna secondo un decreto ministeriale il numero 308 il percorso in vocologia artistica ci permette di ottenere tre punti per le graduatorie di insegnamento pubblico come si fanno ottenere questi tre punti in questo caso la spiegazione sarebbe un po' troppo a lunga non ho tutto questo tempo per cui invito tutti coloro che sono interessati che quest'anno stanno facendo vocologia o l'hanno fatta gli scorsi anni a contattarmi in privato e spiegherò tutto l'iter però è possibile ottenerli per cui non c'è solo lo scopo formativo ma c'è anche poi lo scopo pratico e ho postato la pagina dell'università di Bologna che fa riferimento al mio anno di studio per cui alcuni nomi potrebbero essere cambiati ma non sono i nomi la cosa interessante sono i crediti quelle sigle che vedete accanto alle discipline in slide sono ovvero i crediti che si ottengono nel percorso di vocologia perché ne parlo? perché chi fa vocologia può aver fatto una laurea di primo livello quella che oggi si chiama triennale un diploma un triennio di conservatorio e spesso poi vuole continuare fatta vocologia per cui tutti questi crediti che vedete nelle art 07 sono tutti crediti in didattica e musica che possono essere usati per sostituire esami di didattica e musica futuri all'interno delle università dei conservatori questa è una cosa che quasi nessuno sa faccio un esempio se io decidessi di iscrivermi a un percorso di laurea magistrale in musicologia la famosa LM45 e trovassi all'interno di questo percorso adesso faccio un esempio proprio a caso sette crediti in didattica se in vocologia ho ottenuto almeno sette crediti posso sostituire quell'esame con i crediti già ottenuti e questa non è una cosa da poco perché mi permette di velocizzare il percorso accademico quindi di spendere meno rate universitari di avere esami in meno e anche per sapere come fare questa valenza vi invito a chiedermela in privato perché il tempo è tiranno arriverei quasi alla conclusione dicendo che ho postato apposta questa slide proprio rifacendomi al concetto di prima cioè che insultare sui social io ho messo facebook ma vale per tutti i social è diffamazione la Cassazione l'ho stabilito per insulto non dobbiamo pensare solo alla parolaccia dobbiamo pensare anche a delle frasi ne ho postata una apposta che dice dottore se così si può chiamare cioè se io vado a schermire un professionista che sia un sanitario un medico un collega vado a compiere un reato di diffamazione e ovviamente come vedete ci sono state delle sentenze e questo va a riguardare anche se io mi arrogo il diritto da un podio di dover giudicare delle persone spesso capita sui social di leggere anche delle frasi faccio un esempio solo gli insegnanti di canto eccellenti possono insegnare canto o cose simili nel momento in cui io lo scrivo anche se la frase sembra non avere alcuna valenza mi sto arrogando il diritto da un podio di giudicare tutte magari quelle persone che non sono eccellenti cantanti che insegnano da una vita e che si occupano di didattica quindi hanno fatto trattati ricerche e se una di quelle persone legge questo posto oltre magari a sentirsi offesa se è particolarmente pignola può anche farmi una quarela per difamazione per cui bisogna stare molto attenti a quello che si dice l'opinione non va confusa con l'offesa questo è veramente vitale e purtroppo nei social capita spesso arrivo quasi alla conclusione dicendo che ovviamente queste regole non valgono solo per noi docenti valgono anche per i professionisti sanitari e i medici ci tenevo a leggervi queste righe che ho riportato bisogna evitare anche il di fuori dell'esercizio professionale qualsiasi atto e comportamento che possa ledere il decoro e la dignità della professione occorre rispettare i colleghi anche in caso di opinione opposta queste righe sono tratte non solo dal codice di odontologia medica ma anche dall'articolo 3 della federazione di logopedisti che spiegano come è importante rispettare i colleghi spesso si legge di talvolta professionisti sanitari che anche se in maniera anonima parlano sui social di un paziente che ha un particolare disturbo questo può essere un sintomo per riuscire a capire di chi si sta parlando magari poi il professionista sanitario visita in una piccola città o magari mette una caratteristica anche fisica di un ipotetico paziente o ci sono anche medici che talvolta dicono ma perché andate in questa città a farvi curare operare venite nella mia c'è tutta una serie di cose che ovviamente vanno a ledere e diffamare altri professionisti non c'è bisogno di creare competizione se una persona è brava nel proprio lavoro dovrebbe trovare giovamento nel fatto che in altre parti vi siano colleghi altrettanto bravi cooperare lavorare soprattutto collaborare in maniera pacifica vi lascio con questa frase che è una frase che ho ritenuto particolarmente significativa che dice perché essere onesto in un mondo come quello in cui viviamo significa essere qualcuno scelto in mezzo a diecimila è una frase di Shakespeare che quindi non è proprio l'ultimo arrivato in ambito di letteratura e di cultura l'ho voluta mettere per il semplice fatto che come ho ribadito all'inizio della mia presentazione l'etica e l'onestà premiano sempre talvolta può sembrare che le persone più diciamo furbe anche se poi non lo sono giocando a dei trucchi o comunque a dei mezzi loschi riescono ad arrivare più lontano ad accapparrarsi tanti clienti tanti allievi in realtà poi il tempo come dicevo prima è tiranno per cui prima o poi chi usa questi mezzi alla fine fa un capitombolo io vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stato chiaro e data l'ora se qualcuno si è addormentato qualcuno riferirà io ringrazio Nicola resta qui un attimo visto che ci sono 5 minuti volevo chiedere se ci sono delle domande grazie per la sigla meravigliosa hai finito in orario per cui c'è qualcuno dal pubblico che vuole approfondire le tematiche affrontate da Nicola vuole fare qualche domanda visto che ha terminato in orario siamo in anticipo nulla allora io sono molto contenta di averti ascoltato ci sarebbero molte cose da dire ma purtroppo non abbiamo il tempo quello che è venuto fuori è che i social sono tiranni e che bisogna anche lì avere un'etica e soprattutto un non abuso dei social sia per farsi pubblicità sia per diffamare gli altri andrebbe molto detto su come si certifica un medico chiaramente io ho una formazione universitaria per cui quello che è la certificazione o la pubblicazione di un lavoro viene fatto secondo la medicina di base quindi con dei campioni con insomma con parecchie ricerche con discussioni per cui andrebbe anche affrontato chi certifica un metodo e quale metodo insomma è giusto e quale è sbagliato al di là di questo vorrei anche chiedere nella mia pratica non chiedere affermare che molto spesso mi capita invece di incrociare insegnanti di canto che si occupano di voce disponica e quindi questo insomma sollecitare la vostra morale la vostra etica non farlo tanto soventemente ma quanto dedicarsi poi alle figure preposte come il fognato e come i logopedisti perché se veramente ci sta a cuore l'allievo che noi curiamo e trattiamo dobbiamo poi lasciare spazio agli altri va bene grazie